Eccoci di nuovo qui. Questa volta dimostreremo il funzionamento di un trasmettitore di marca Elka. Il TX in questione ha una potenza massima di 20 W, range di frequenza settabile internamente attraverso Deep Switch da 88 a 108 MHz. Tutte le connessioni di questo trasmettitore sono frontali, anche l'alimentazione e l'interruttore power on off, come si può notare. Il cavo di rete, l'interruttore, gli ingressi, ecco, ingressi per la bassa frequenza, ingresso bilanciato e sbilanciato, come si può notare, con un selettore 600 Ohm 20 Kilo Ohm e un altro per selezionare l'ingresso bilanciato e sbilanciato. Uscita frontale sempre della potenza RF con connettore AN, sopra c'è un commutatore per le varie misure allo strumento, in questo momento sta segnando la piena potenza, qui si può notare c'è il selettore diretta riflessa, ovviamente essendo su carico non c'è potenza di rientro, poi c'è un BNC per le misure, si va all'analizzatore o al frequenzimetro, quindi un prelievo, due LED, uno indica il PLL agganciato, l'altro se ci sono onde stazionarie, quindi rosso, ok, il selettore come dicevo prima, potenza diretta riflessa selezionabile con il commutatore, con l'interruttore scusate, e modulazione, in questo momento non è modulato, quindi non si muove lo strumento, tensione 24V, tensione 12V positiva, tensione 5V positiva e meno 12V, ok, bene, ora andiamo a vedere la potenza che sta erogando in questo momento, il smettitore in questo momento eroga 19W, chiaramente la misura non sarà precisissima perché abbiamo una testina da 250W, quindi, ok, range da 100-250MHz, in questo momento il TX è tarato sulla frequenza di 87,9, si può notare, ok, bene, altro da dire non c'è perché, dietro non c'è niente, a parte la ventola, c'è una ventola per la dissipazione termica, ma come connessioni non ha niente, è tutto frontale, il TX è molto simile, similare come costruzione agli Elenos, è la ditta costruttrice Elenos che costruisce amplificatori, finali e quant'altro per il broadcast FM, e niente, è funzionante, ok, collega per favore all'analizzatore lì, ora accenderemo l'analizzatore per fare un'ultima misura, vediamo cosa viene fuori da questo signore, ecco, attenuazione, quindi, fondamentale questa, prima armonica, seconda armonica, cosa ha? 1, 2, 3, 4, 45 dB di attenuazione sulla prima armonica, caso forse di filtrarlo ulteriormente, ok, bene, ok, qui è tutto, allora ricordo, Elka, ingresso bilanciato, sbilanciato, uscita per prelievo di misura, ora noi stiamo prelevando direttamente sempre dal prelievo sul carico, quel famoso cavetto che va all'analizzatore, ok, altro non c'è da dire, alla prossima!